Civitavecchia ai tempi della peste, trentesimo bollettino e fondazione Cariceve presente. Da decenni la fondazione collabora, è vicino alla società storica per i suoi bollettini. Tutti estremamente interessanti, ma questo di oggi che andiamo a presentare è forse il bollettino più vicino ai tempi che stiamo vivendo. La peste a Civitavecchia, i problemi creati ad ogni livello dalla forte epidemia, stessa cosa avviene oggi. Stessi temi, stessi drammi con malati, con morti, ma anche drammi legati alle conseguenze che ciò comporta, quindi legati al sociale, legati ai commerci. Leggendo questo libro ci si ritrova completamente in quello che sono i momenti di oggi. Noi come società storica stiamo ripubblicando, rivedendo testi dei secoli scorsi. Due anni fa avevamo iniziato con un libro che parlava della storia della diocesi di Civitavecchia e in quella sede abbiamo deciso di affrontare questo libro del dottor Bindi, pubblicato nel 1658, dedicato proprio alla peste di Civitavecchia. Il caso ha voluto che le condizioni sanitarie di tutto il mondo, anche di Civitavecchia, siano in qualche modo paragonabili a quelle di 350 anni fa, e perciò questo libro è di un'attualità incredibile e vedrete che ci sono molti atteggiamenti, molte cose che venivano fatte nel 1656 che sono identiche a quello che viviamo noi oggi nel 2020. Ci sono quei corsi e ricorsi storici che veramente fanno rabbrividire. Ad esempio un caso molto interessante è che per ovviare alla contagiosità della peste i cittadini di Civitavecchia furono chiusi all'interno delle mura e non fu possibile per gli agricoltori frequentare i loro campi e ci fu una vera e propria sommossa in cui l'altro medico, che era Francesco Casella, finì quasi ammazzato. Quindi è qualcosa che sorprende perché evidentemente mostra una ciclicità nella giro umano che è proprio anche sotto i nostri occhi. Il colera è nato in India, è stato trasportato in Europa dai galeoni con le truppe britanniche che ritornavano dal servizio in India. Alcuni cittadini di Civitavecchia, soldati o chi viveva qui o dei dottori facevano dei risoconti come per esempio anche quando arrivavano i bastimenti con sospetti di colera, venivano messi in quarantena, c'era tutta una lunga procedura che ricorda un po' quella adesso del coronavirus, tutto il cordame, le lenzuola, i bagagli eccetera, venivano disinfettati tutte le procedure che io ho descritto poi nel libro.